Ciao ragazzi, spero che stiate bene. Benvenuti in questo video in cui sfrondiamo questo castano che è un bello grandicello, direi. Se non avete visto il video dell'abbattimento, ve lo metto nella descrizione, ma che ve lo faccio vedere per bene. È una bestia, è una bella bestia. Intanto mi è arrivata la notifica. Mettiamoci al lavoro. Ecco, il primo pezzo, il primo spezzone da tre metri. Non lo faccio a pezzettini, ma più o meno qua lo taglio e poi non lo so se ci faccio delle assi, una panchina, un tavolo, non lo so. Intanto lo salvo e poi vedremo cosa farci. Mettiamo un po' di musica. Spotify. Pubblicità. Riproduzione. Dai, muoviti. No. Musica. Guanchi. Uffie. Accendiamola. Due mesi buoni per l'autorizzo. Vediamo se è un pollo. Ecco, non mi ricordo. Vediamo se è un pollo. Vediamo? bella affinata buono qua bisogna stare attenti perché se mi finisce sui piedi non è bello togliamo la zona taglia bene taglia veramente bene con la catena filata è tutto un'altra cosa direi un po' di sì vediamo dove vettere i piedi guarda che c'è la mano tagliare con la musica è una poesia bellissimo qua vediamo di non farmi male facciamo il giro a domicilio ah questo è un pezzo che ho salvato ci farò delle assi perché è veramente dritto bello pulito non ha nodi veramente tanta roba adesso vediamoci vediamo ok non appoggiamo questo però può è un pezzo che ho salvato che mi misco la zona che non mi piace ma di tutto è un pezzo che ho Questa cosa proprio diretta, però... Oh, io ho tagliato Non dovrebbe ruotare No, si chiude qua Ora mi sfido, ora mi sfido, ok Se non vi fidate, non fate Mi è arrivata la notizia Perchè un commento? No, è bella bloccata Proviamo da qua È bloccata proprio Eh qua, boh, basta Possiamo il giro Ma non ho anche un pezzo Eh, non rifatelo a casa Noi, conviene pulire di qua E poi farlo finito Anzi Tagliamo il pezzo qua Sì, dai, tanto capitata Buona mamma mia più calcina Oh, oh 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 Buono, bella, ecco quando entrate in queste situazioni andate con calma, che non c'è fretta e state attenti sempre Grazie a tutti Buono 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 Buono